Buonasera, sono Sara Bellofatto e benvenuti a un nuovo appuntamento con Milano Sport. Questa sera daremo gli appuntamenti sportivi delle nostre squadre milanesi nei vari sport e campionati di riferimento. Cominciamo con il basket. L'Olimpia Armani scenderà in campo al Medioladun Forum questa sera in Eurolega contro Villurben. È la ventesima giornata del massimo campionato europeo la cui classifica vede proprio Milano e Villurben insieme a Berlino ultime a 12 punti. In Serie A invece sarà ospite del Reggio Emilia domenica prossima alle ore 18. In classifica si trova prima a pari punti con la Virtus Bologna. Nel campionato femminile invece l'Alliance Geas Sesto San Giovanni, redice da una sconfitta contro Magnolo a Campobasso, ospiterà in casa il Bricks Basket domenica prossima alle 18. Attualmente la squadra milanese si trova a quinta posizione a quota 20 punti. Passiamo ora alla pallavolo nel campionato di Superlega maschile. L'Alliance Milano si trova in sesta posizione a 23 punti a pari merito con Cisterna. Si trova a due punti di distanza da Piacenza, 25 punti, contro cui ha vinto settimana scorsa e a tre punti da Civitanova e Trentino, ferme a 26. Questa domenica giocherà in casa dal Verona alle 15.30. Nella Serie A 1 femminile la vero volley Milano andrà in trasferta a Bergamo domenica alle 17 per rimanere in corsa a Scudetto. La squadra di Gaspari si trova infatti terza a 35 punti, a solo una vittoria di distanza da Scandicci, a 38 punti. La capolista Conegliano è a quota 41 punti. Nel campionato di Serie B1 le due squadre milanesi Focol Legnano e Bracco Propatria si trovano rispettivamente seconda a 29 punti e terza a 24. Questa settimana le squadre saranno a riposo fino al 4 febbraio, quando la Focol giocherà contro Vap Galbiati e Propatria contro Visette Volley. Concludiamo con il rugby. Il Parabiago scenderà in campo sempre domenica alle 15 contro Benetton Treviso alla ricerca del primo punto in campionato. Prima di darci appuntamento alla prossima edizione di Milano Sport, ricordiamo che stasera andrà in onda Women of Sport in compagnia di Elena Pesaresi. Avremo come ospite in studio la coppia di partenaggio artistico Sara Conti e Niccolò Maci, che lo scorso 9 dicembre ha conquistato il primo podio della Nazionale Italiana alle finali del Grand Prix 2022. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito su Milano Sport e torniamo ora alle notizie del nostro telegiornale. Grazie a tutti per averci seguito su Milano Sport.